Le prestazioni non bastano più, adesso è il momento di far punti. E Diego Lopez a suonare la carica per i suoi dalla consueta conferenza stampa pre-partita, chiarendo una volta in più come il margine d'errore si è ormai ridotto quasi a zero. La rincorsa dei Rosa all'Empoli, inutile girarci intorno, non è mai realmente cominciata. A fronte delle recenti cinque sconfitte consecutive dei Toscani, i Rosa sono riusciti a rosicchiare solo un punto, grazie al parinterno contro la Samp, fermando il gap in classifica a quota 7 punti. I prossimi due impegni offrirebbero ai siciliani due occasioni importanti, affrontando Udinese e Cagliari con l'Empoli, che invece dovrà vedersela con Napoli e Roma. Buona fetta della corsa salvezza si decide insomma adesso. Quella contro i bianconeri di Del Neri rappresenta comunque una missione difficile da compiere. I firulani arrivano da un periodo buio, risollevato dal pari preziosissimo contro la Juventus e dal salutare 3-1 rifilato a domicilio al Pescara nell'ultimo turno. Non ci sarà ancora Rispoli, ferma i boxe, e che Lopez ha confermato di non voler rischiare in vista degli impegni futuri, così come Andelkovic per un risentimento al ginocchio. Questo però non farebbe vacillare le idee del tecnico uruguaiano, da sempre ben chiare in testa per il suo Palermo. Cambiare modulo? Non penso. La difesa 3 è un'alternativa per noi, ha spiegato. Da qui alla fine non si può mollare un centimetro, lo dobbiamo fare negli allenamenti per poi riportare tutto in partita. Diamanti non ha bisogno di presentazioni, l'ho visto bene, ha una buona gamba, è un calciatore importante per noi. Balog sta bene, la squalifica è terminata ed è pronto per giocare. Bisogna ripartire dal secondo tempo con la Roma, l'Udinese è una squadra possente, forte fisicamente, ha concluso Lopez, ma sono convinto che dando il massimo possiamo fare punti. Sciolti anche i dubbi sul portiere, che però Lopez non ha voluto comunicare alla stampa. Più che concreta, la possibilità di un ritorno tra i pali di Posavez, lontano dai mugugni del suo pubblico.